si apre mano la prima uscita stagionale della calcio lecco decimo minuto maris dal dischetto 1 a 0 per il lugano ci sarà comunque da divertirsi al tredicesimo capogna serve giudici che scappa sulla sinistra giudici rallenta entra in area poi sulla pressione dello stesso maric calcia alto sopra la traversa ci riprova lugano a trovare la via del 2 a 0 minuto numero 23 batti ribatti al limite dell'area macek con il destro piattone troppo facile safarica blocca con tranquillità minuto numero 26 bauman si complica decisamente la vita rinviando addosso a capogna giudici controlla con l'interno del piede destro poi di mezzo esterno prova a trovare la porta da lunga distanza trovare insomma il classico jolly che non riesce a cogliere comunque dal mazzo prosegue il lecco minuto numero 28 capoferri se ne va ottimamente sulla sinistra cross al centro magni arriva bene sul pallone un po accartocciato palla che passa sopra la traversa della porta difesa da bauman comunque un'altra buona chance per i blu celesti pregevole anche questa giocata del lugano sulla fascia di destra il cross al centro safaricas non perfetto comunque al minuto numero 43 riesce a bloccare il pallone riparte bene il lugano nella ripresa minuto numero 50 sulla sinistra se ne va hoakin trova però ancora una volta safaricas minuto numero 59 raddoppia il lugano cross al centro macek riesce a trovare il punto del 2 a 0 su una dormita blu celeste blu celesti che però riescono a pervenire al 2 a 1 al 68esimo galli steso nettamente in area pregevole la giocata anche di capoferri per servirlo magni dal dischetto al 68esimo trova la prima rete blu celeste ufficiosa di questa stagione con un prefetto sinistro a incrociare che batte il portiere l'eco che rischia ancora però di andare sul 3 a 1 a kin la grande stoccata dalla breve distanza ottima parata di safaricas l'eco che non molla e all'84esimo trova il punto del pari galli calcola ottimamente la distanza tra sé e il pallone mastroiani si abbassa e il pallone scagliato con il piede destro da galli gli passa appena appena sopra la testa trova il palo lungo e il punto di un comunque meritato 2 a 2 bella e veramente pregevole la conclusione di galli che corona così un'ottima partita il lugano però rieschia un minuto dopo di conquistare la posta piena in paglio seppur virtuale palla che si perde sul secondo palo Longhi riesce a saltare Aidara non perfetto nella chiusura però poi da 0 metri calcia ben sopra la traversa